Ciao amici di una recensione, vi parlo oggi di Topolino e l'Oscetta di Arlec, una saga per moltissimi sconosciuta ma per me molto valida che meriterebbe una ristampa anche in grandi saghe, per esempio, che sta uscendo adesso. Una saga che uscì in ben sei volumi nel 1989 in tre albi e poi il ritorno nell'anno successivo. Ma guardiamolo meglio insieme. Ed ecco i sei albi in questione, tra l'altro, piccola curiosità, il primo numero, ovvero il numero 1753, e anche il mio primissimo con il quale cominciai a collezionare Topolino. Già ci feci un video e proprio anche da quel video qualcuno come Michele, Andrea o Davide e tanti altri chiedero la loro opinione in merito a questa saga di cui vi parlo oggi. Una serie, ripeto, molto sconosciuta che a mio avviso potrebbe essere paragonata anche alla molto più famosa Spada di Ghiaccio. Potrei dire una blasfemia ma è quello che penso. A me è piaciuta in egual modo, seppur ovviamente Massimo De Vita e la sua saga ha riscontrato molto più successo perché forse è meglio articolata e forse è meglio disegnata. Ma ognuno, ecco, poi legge e dà un proprio giudizio. Dunque, partiamo con la prima storia. I volumi sono sei perché, ripeto, uscì la prima trilogia nell'89 e poi l'anno dopo ci fu un ritorno. Comunque a me è molto gradito. Solitamente a me i ritorni non piacciono, non fanno impazzire, ma in questo caso ho gradito anche l'idea che c'era alla base. Fumetti, manco a dirlo, che si aprivano da Dio, con pubblicità, con redazionali, con storie, nomi, autori meravigliosi. In questo caso stiamo arrivando all'apice del successo della Golden Age di stampi di Topolino. Le lire erano 1700 ma sappiate che già nel numero successivo diventavano 2000 e, tra l'altro, a breve si raggiungeva, appunto, anche il picco di copie stampate. Dunque, la prima storia, nonché la prima parte, è la seguente, ovvero Topolino e lo sciato di Arlec. Testo e disegni per tutte le sei parte di Jean-Pierre Ubezio, un autore di cui ho trovato pochissimo della sua vita e della sua biografia. Da quello che so e da quello che ho capito, è un autore ormai in pensione, che non compare più, poi magari potrei sbagliarmi, che agiva soprattutto nel mondo dei topi, in particolare con Indiana Pips e con le storie di Zapotec e Marlin. Però si è dilettato anche in questa opera molto grossa, da autore completo, appunto, lo scelto di Arlec. Lo scelto in qualche modo ricorda molto la spada di ghiaccio, anche perché è questo oggetto conficcato nella roccia, così come lo era la spada. E il protagonista è proprio Topolino e Pippo in questo mondo fantascientifico in cui vengono catapultati contro un po' la loro voglia e contro il loro interesse principale. Perché la storia comincia proprio in questo modo, in maniera molto semplice, seppur per me molto carina, Topolino e Pippo devono fare un regalo per Minni e il loro occhio cade su un negozio di antichità. Il gestore gli propone questo oggetto, ovvero la scacchiera, una particolare scacchiera molto antica con alcuni personaggi. Pippo comprerà anche una lampada e usciranno con questi due regali, così che è da poter dare a Minni. Ma quella scacchiera in realtà ha un potere, perché nel momento in cui ci si gioca, dopo aver letto le regole e lanciato i dadi, automaticamente, ecco questa è l'immagine, Topolino e Pippo vengono catapultati nel mondo di Arlec. Questo mondo a cui io sono molto legato, seppur non ami per nulla le storie fantascientifiche, Topolino e Pippo, ovviamente molto confusi, ignari di quello che sta succedendo, cercano di capire quello che accade, finché davanti a loro non si presenta Tanor. Tanor che è un druido, nonché uno dei più importanti consiglieri del mondo di Arlec, che farà capire e contestualizzare a noi lettori, ma anche protagonisti, quello che sta succedendo, il perché siano qui. A quanto pare Topolino e Pippo sono dei prescelti, non personaggi a caso, ma finalmente, nell'universo i paralleli e quelli conosciuti, i dadi sono stati lanciati proprio da chi effettivamente meritava questa posizione e questa possibilità, questa avventura, ovvero in particolare Pippo. Cosa accade ad Arlec? Un tempo vi era appunto Peredor, il regno di Arlec, con questo famoso scettro, uno scettro dal potere sovranaturale, che finché però era in buone mani, ovviamente riusciva a essere gestibile e gestito in buone occasioni. Finché però non arrivò Nadar, questo cultore della magia nera, che lo scettro lo rubò e lo conficcò in questa roccia, dal quale nessuno è riuscito ancora a estrarre. E sarà quindi compito di questi prescelti, Topolino e Pippo, riuscire a trovare uno, lo scettro, e poi anche a tirarlo fuori. Ovviamente non saranno da soli, ci sarà anche Lir, questo simpatico gnometto, che a me ricorda molto i Sette Nani, anche come espressione e come disegno. E insieme a loro, Tanor darà anche qualche piccolo oggetto, come le lisili dell'invisibilità, o come altre piccole armi, che sicuramente possono fare al caso loro. E quindi comincia l'avventura. Questa è la mappa, le terre di Arlec, loro sono qui, si ritroveranno a dover arrivare fino alla tomba, passando comunque una foresta, delle montagne e delle rovine. La mappa risulterà completa, nella sua comprensione, solo con una lettura del ritorno. Quindi mi viene a pensare che Ubezio tutto ciò l'aveva già premeditato, perché comunque altrimenti non l'avrebbe scritto, non l'avrebbe caratterizzato nella mappa in questo modo. Scopriranno i personaggi, ovviamente, da avere questo potere particolare dei dadi, che in qualche modo, volontariamente o meno, riusciranno a essere dalla loro parte. E quindi comincia l'avventura. Tra l'altro, nel numero successivo, già veniva anticipato, che sarebbe uscito un regalo ecologico, eccolo qui, ovvero un orologio. Orologio di cui io non pensavo esistesse, perché non l'ho mai visto tra i gadget, ma magari chissà, un domani lo recupererò. È esattamente simile a questo, anche se un pochino più marchiato Disney. Vi erano, a quanto pare, due versioni di topolini mini e questa era la loro funzione, ovvero da orologio. usciva in ben quattro parti, questa era la prima, con i due personaggi. Probabilmente io ce li ho anche, ora so da dove derivano, in effetti, però mi manca il cordino, mi manca tutto il resto. Chissà, se magari qualcuno ce l'ha, mi dirà effettivamente se ne vale la pena o meno. Ecco qui qualche orecchia da coniglio, ma purtroppo quei fumetti vecchi, chissà quante ce ne sono qua e là, io ogni volta cerco di togliere, ma poi si riformano sfogliando gli albi. Bellissimi, molto belli, molto vintage. Ecco, una piccola parentesi, mi piacerebbe a me un orologio nei gadget di Topolini nei prossimi anni, nei prossimi tempi, perché effettivamente manca l'appello. Io non ce l'ho, almeno di quelli vecchi ormai usciti tanti anni fa, compreso questo, che però mi manca, ma simili. Sarebbe una bella iniziativa, secondo me. E passiamo però appunto alla storia, che non era la prima, ma la seconda. La prima era di Paperone e lo spazio plastica, di Marconi Cavazzano. Cosa devo dire di questi due autori, due autori tra i migliori di sempre, quindi il Topolini in quel momento viveva un'epoca d'oro soprattutto per i nomi coinvolti, che hanno fatto la storia di Topolini. E questa è la seconda parte, seconda puntata. Ah, guardate qui cosa ci abbiamo, cosa stava uscendo tra l'altro, ovvero le banconotte della Cornero, famosissime banconotte, le migliori uscite ad oggi, che secondo me sono migliori anche di quelli della BNL, nulla a che vedere con quelle attuali, perché erano in filigrana ed erano ben fatte, ben proporzionate. Uscivano con i frollini, anche, quindi era un'iniziativa non solo del Topolino, qualcosa che ora vale una cifra attorno ai 300 euro, averla completa. Insomma, quindi quelli hanno fatto la storia, quelli attuali no. Eccoci, è una città di Walk, in cui i nostri protagonisti continuano l'avventura ed effettivamente l'avventura è molto valida, perché i disegni di Ubezio riescono benissimo, guardate che dinamicità. Io potrei dire un'altra blasfemia, ma secondo me Ubezio per questa storia si è ispirato a lui la Spada di Ghiaccio e anche a De Vita, tanto che in alcune espressioni a me lo ricorda Massimo De Vita, poi magari sbaglierò, sono troppo esagerato, però Ubezio, autore, così come tantissimi altri, sconosciuti, ai più, che meriterebbe magari una ristampa, lo ripeto, in grandi saghe attuali per questa grande storia, che secondo me in pochissimi conoscono, ma che grazie anche a voi che mi avete commentato negli scorsi video ora posso proporre. Vi guardate qui la fortezza, c'è uno studio dietro, comunque non indifferente, fortezza in cui soggiace Nadar, signore del male, eccolo qui, che lo vediamo anche prima o poi apparire, le trappole sono una doppolata, tra l'altro in questa parte, non ricordo, ecco sì, ricordavo bene, c'è Pippo che cerca di sedurre uno dei nemici fingendosi donna, molto simpatico, mettendosi solo un rossetto e facendosi la treccina con i suoi due orecchie, simpatico, come sono simpatici, secondo me anche le espressioni e di fatto il disegno che c'è dietro, finché non si arriva appunto alla tomba, che però direi che è argomento della terza parte, eh sì, perché in effetti la tomba verrà poi esaminata successivamente, quindi settimana prossima per chi leggeva il Topolino in quei anni, Nesquik, ecco qua ancora il Topolino, il regalo ecologico, Big Bubble, vi voglio solamente far vedere un po' ecco come era frutturato, anche le pubblicità promozionali di altri prodotti con delle storie, qualcosa comunque di molto interessante, e poi storie come questa, questa la ricordo bene, di Cavazzano, Cavazzano era ovunque in quel periodo come disegnatore e anche a volte come motore completo, con Cimino, in questo caso, contro Terror, Terror è questo strano tizio, ovviamente astratto, inanimato, non umano, che è progettato per rubare i soldi a due paperone, e ci sono delle scene per me memorabili come questa, ma ce ne sono di più belle, andando avanti, e sono riviste prime, ecco, guardate che splendore, che tavole, Cavazzano riesce benissimo, per me è la Disney, per me sono i paperi, se io penso al miglior rignatore dei paperi, penso a lui, dei topi, faccio fatica a dire casti, ma o lui o De Vita, ecco, e poi in tutto ciò c'è Scarpa, ho nominato i migliori, secondo me, però in realtà abbiamo già visto come anche Ubezio, un autore magari che nessuno ricorda, perché comunque non è che ha fatto grande carriera, secondo me, poi magari posso sbagliarmi, aveva un tratto comunque molto valido, tanto da disegnare certe storie come questa, che bella cover, questa ve la fai vedere anche da più vicino, è stupenda, come riuscire a convincere un lettore, un cliente a comprarsi il gadget, mettendolo in copertina, ma non in maniera astratta, con una fotografia magari come era quella precedente che non ho molto apprezzato, ma mettendola sui personaggi da noi amati, proprio in paperina, molto bella, purtroppo su Indax non venne scritto che è copertinista, così come non venne scritto di questo, per esempio, i numeri successivi sì, ma di questi qua no, che sono bellissimi, non so chi siano, purtroppo, però qualcuno l'ha fatto, qualcuno l'avrà disegnato, ovviamente, la prima storia di questo albo è di Paperone, Rockarduck e il tesoro in società, di Bruno Concina, l'ideatore, l'inventore delle storie a bivi, nonché un'altra sua storia, appunto, a scelte, con i disegni di Comic Up, che era uno studio di disegnatori più che altro spagnoli, brasiliani, comunque una storia d'apertura, niente male, anche molto, molto bella da vedere visivamente, graficamente, ma a noi ci interessa la terza parte, in cui i nostri amati protagonisti dovranno cercare la porta corretta fra le tante, a numeri dispari, per entrare e prendere lo scettro e per capire quale di queste va aperta, Pippo lancerà i dadi, tra l'altro queste statue non sono messe a caso, ma sono tutti i ragazzi, tutti i signori, tutti i druidi di Arlec che hanno provato a entrare, ma sbagliando porta avvenivano in qualche modo mummificati in questo modo e quindi Pippo però si affida i dadi e la porta numero 7 sarà quella che correttamente porterà allo scettro ma ovviamente non è che può essere così semplice perché Nadar si farà vedere per la prima volta davanti a loro e vi sarà il famoso primo combattimento ve ne sarà un altro definitivo nel ritorno prendiamo lo scettro ovviamente e verrà riportato a chi di competenza ovvero al re per ed or ecco qua e quindi finisce questa prima grande trilogia che ho apprezzato molto anche dalle mie parole e poi Minnie si rifà viva in casa come se nulla fosse accaduta in realtà però il regalo che le verrà consegnato non sarà la scacchiera ovviamente onde evitare altri disagi ma sarà la lampada di pippo poi pubblicità ancora ecco qui legato all'orologio una che bella dell'altra ma anche le storie questa qui era molto interessante non so di chi perché gli autori stranieri non venivano citati in fondo all'albo ma paperetta e gli imbrattamenti elettorali soprattutto anche negli ultimi periodi con le elezioni avvenute qui in Italia mi ha fatto sorridere molto bella e poi ovviamente l'ultima storia che ci tengo a far rivedere solo perché ecco sono di attori italiani è una storia lunga come quella iniziale di Michelini Gatto la buona storia di Paperino ragazzi una storia memorabile bellissima in cui plasticamente vi fa capire quanto Paperino nella sua vita sia sfortunato e quindi qual è la sua vita di tutti i giorni molto bella ovviamente c'è anche dietro a quanto pare un marketing genio un algoritmo scientifico magico che prevede che Paperino viva questa vita però è molto bella e poi Michelini Gatto sono due autori che formano una coppia di fatto fa anche rima e poi abbiamo la trilogia di ritorno con queste cover tolto la seconda promozionale di Vagabondo di Roberto Santillo altro autore misconosciuto ai più e tra l'altro in questo periodo stava uscendo l'album di Tio Paperone più oro che mai infatti vi saranno delle figurine che in realtà non ho più presente ma lo so perché ecco questa era la pubblicità allegata e spoiler questo album li sto per recuperare quindi prima o poi sul canale li vedrete perché secondo me sono dei gadget interessanti vedete uscivano le figurine e poi venivano attaccate non mi importa se non ce l'ho in questo momento ah tra l'altro che abbiamo una storia di Chierchini sicuramente vediamo un po' qual è perché il tratto è suo non posso sbagliarmi ci gioco il canale che è Giulio Chierchini ecco infatti Paperino Dog Sitter questo tratto pennellato mix di aerografo matita olio era tutto il suo stile è solo lui ma anche qui ciò che ci interessa vabbè a parte la prima storia che vediamo giusto di chi è di grandi autori come Concina e Cavazzano ci interessa ovviamente il ritorno ad Arlec che in questo caso dovrebbe essere l'ultima non per importanza ma inserita in questo modo ecco qua dopo un anno si ritorna per un motivo ben specifico Topolino va a casa di Minni e Minni non c'è più è stata rapita da Nadar cosicché da avere ecco una possibilità di riottenere lo scelto del potere e quindi di riottenere quella che è la sua fama ad Arlec l'introduzione è piuttosto importante perché Topolino e Pippo si trovano molto confusi a tal punto che vorrebbero rientrare ad Arlec per recuperare Minni ma non sanno come fare e sarà Tanor a ripresentarsi plasticamente davanti a loro per riportare nuovamente ad Arlec cosicché loro due insieme a Lear come sempre il loro amico gnomo possano recuperare Minni ma non solo eliminare per sempre anche Nadar che nel mentre ha rubato di nuovo lo scettro e il re Peredor ha ingaggiato un nuovo consigliere che non so se viene già fatto vedere in questa parte ma un consigliere malevolo ovvero Aspis che sicuramente lo si potrà vedere meglio nella prossima ecco qui e alla fine di queste invece i nostri protagonisti incorrono in un nuovo alleato in un nuovo amico ovvero mi pare si chiami Ashill ecco lo qua questo troll che è molto affettuoso seguirà i nostri amati topi e poi abbiamo il 1821 con un'altra spegne da storia iniziale di Gatto già al tratto del suo guardate che bel frontespizio stupendo Bruno Sarda ha la cianeggiatura che tavole ma c'è poco da dire su Gatto non devo di certo fare io quello che la Penny Comics non fa ovvero far uscire un volume su di lui almeno uno ci vorrebbe un Omnia intero ma almeno uno ora magari loro aspettano di farlo perché solitamente le Omnie si realizzano quando un autore non c'è più in vita però in realtà Massimo De Vita Cavazzano e non solo loro Casti Zika hanno ricevuto volumi su volumi da me molto apprezzati in parte anche acquistati ovviamente in vita quindi cosa aspettano a far uscire un volume su Gatto che ci sono un sacco di storie stupende e poi almeno il rispetto di ricordarlo perché tutti i lettori della Golden Age Topolino lo ricordano lo ricordo pure io che non l'ho vissuto direttamente perciò figuratevi Topolino e il ritorno di Harlech seconda parte in cui i personaggi si ritrovano adesso di nuovo a Wok se non vado errato eccoci sempre nell'attesa di riscoprire dove sia Nadar e Minni ecco qui Aspis questo è questo stregone che poi in realtà si rivelerà un serpente spoiler ma è così serpente quindi modificato antropomorfo che farà succube il re e per questo lo scettro del potere è stato demonizzato e per questo Nadar è tornato grazie ad Aspis fondamentalmente e qui si pensa però a portare a galla un nuovo personaggio ovvero Gwenkal che è il primissimo re di Harlech che è l'unico che può ridare lustro allo scettro può ridarne potere così che da sconfiggio è definitivamente appunto Re Nadar per trovare Gwenkal però bisognerà aspettare se non vada errato la prossima parte nel frattempo Minni non fa altro che attendere in maniera sempre meno speranzosa perché è molto tempo che è lì e l'ultima grande parte la sesta possiamo definirla altra cover di Santillo è la seguente ma prima ancora giusto citare gli autori italiani della prima storia ovvero Cimino del Conte c'era sempre un grande autore sempre o perlomeno chissà al tempo si pensava che Cimino fosse grande io presumo già di sì Cavazzano anche siamo comunque già negli anni 90 quindi un pensiero che già per chi leggeva poteva essere in qualche modo onorato di leggere certi autori seppur noi col tempo li ricordiamo grandi ma già al tempo lo erano sicuramente ecco qua la terza parte la sesta in assoluto qua abbiamo Gwenkal che in realtà è una statua ma grazie alle parole di Pippo si sveglierà e riuscirà ad aiutare come meglio può i nostri amici i nostri protagonisti e vi sarà dopo una serie di peripezie tra l'altro vi è pure questo drago mangia sabbia bellissimo che inizialmente è un nemico poi Pippo sempre lui protagonista assoluto riesce da domesticare per arrivare da Nadar dove sarà il combattimento finale sfoglio ecco salto a pie pari molte pagine ma giusto per sintetizzare ecco qua questo c'è il blanco mattimento disegno bellissimo ecco qui mi ricorda molto De Vita nuovamente onestamente e la storia termina con Nadar sconfitto lo scettro che torna al suo al suo posto i personaggi che vengono nominati cavalieri già forse loro erano nominati nella prima parte nella prima trilogia ma quindi nuovamente onorificati e vi sono tutti felici e contenti ecco e qui dunque termina la sua avventura mentre una notte tranquilla scende sulle ormai pacificate terre di Arlec ciò che non doveva essere diviso si riunisce è questa bellissima illustrazione di saluto definitivo perché poi da quel momento in poi ad Arlec Topolino non metterà più piede una storia memorabile che lo ripeto per la terza volta meriterebbe una ristampa così come tante altre saghe di questo periodo gli anni 90 gli anni 80 gli anni 2000 gli anni 2000 sono colmi di queste storie tra l'altro gli albi in questione costano pochi centesimi perché funziona così essendo stati molto stampati per quanto i livelli di contenuto sono molto buoni collezionisticamente valgono molto poco è un po' un paradosso ma comunque positivo perché permette a tutti noi di poter leggere o comunque anche al ragazzino al bambino con pochi spicci in tasca di andare al mercatino e poter leggere storie di questo calibro per me pazzesche vi ringrazio vi saluto e alla prossima ciao ciao